Buongiorno a tutti, buon giovedì, ieri è stata una giornata particolare per due motivi, uno che i social hanno smesso di funzionare e c'era mezza Italia in panico, un casino, gente che mi chiamava, mi diceva di qua e di là, Pierti va di qua, Pierti va di là, invece non dava un cazzo, quindi non potevo fare nulla, quindi mi scuso anche con gli amici che mi hanno contattato, che volevano sapere se andava, ma veramente non riuscivo a rispondere. Detto ciò, la giornata di ieri, ieri abbiamo visto un bellissimo Liverpool, veramente bello, ha fatto una gran partita, li ha messi sotto, il Bayern proprio neanche un po' deluso, perché sinceramente mi aspettavo qualcosa di più dal Bayern, comunque è stata una bella partita. il Barcellona aveva il compitino, quindi era scontato che il Barcellona non avesse faticato, quindi ha fatto proprio il minimo indispensabile per passare il turno. domani ci sono i sorteggi, vedremo cosa esce dalle palline magiche, vedremo cosa esce, speriamo che esca qualcosa di, al momento, un attimino abbordabile, e poi vedremo, vedremo poi, se dovessimo fare la finale, vedere chi ci tocca, ma più che altro con che impronta e grinta si potrebbe affrontare una finale, non come le precedenti, diciamo, nonostante che quella che ho Real Madrid sappiamo tutte come è andata, quindi vabbè, ormai, non ti è parlare del passato. e che dire, niente, tornando al discorso dei social, ieri si era bloccato tutto, addirittura, io non ho Facebook perché io non lo uso, però ci sono delle persone che mi hanno detto che addirittura anche là non andava nulla, quindi era tutto bloccato, Whatsapp non andava, ho smesso di funzionarmi verso l'otto di sera, più o meno, mentre invece Instagram mi ha smesso di funzionare verso le quattro di pomeriggio, pensavo fosse una cosa mia, infatti ho provato a spegnere, accendere, ho addirittura, sono uscito addirittura da Instagram e non riuscivo più nemmeno a rientrare, perché mi dava errore di rete sconosciuto, quindi non riuscivo più a rientrare, l'unica cosa che continuava a funzionarmi era la daire, quella lì funzionava regolarmente, infatti riuscivo a comunicare con qualche amica che mi chiedeva perché lo scrivevo e allora ecco gli ho spiegato sulla daire perché non potevo scrivere. Poi niente, stamane ho riacceso, io ho levato la connessione addirittura stanotte, tanto che cazzo tengo a fare, un buon cazzo, e praticamente invece stamane ho visto subito che era tutto a posto, allarme rientrato, l'Italia ritorna col sorriso, eccetera. Comunque ieri, anche se non andava in social, mi sono messo nella tv tranquillamente, come faccio anche tantissime sere, non è soltanto discorso di social che ho accendato la tv, assolutamente. E niente, una giornata oggi è bellissima, finalmente ha smesso anche di piovere, che gliel'ha fatto veramente della pioggia torrenziale, addirittura ho sentito che a massa si sono allagate strade, asili, comunque buono, successe. Va bene, detto ciò, il buongiorno ve l'ho dato con il mio video, e spero che la giornata vada bene a tutti e alla prossima, ci vediamo. Ciao a tutti!